Salamone Genovese Salamone Genovese, azienda leader nella vendita e assistenza di prodotti, macchine e attrezzature agricoli. Offre una vasta gamma di prodotti delle stufe a pelle e fellegno, alla vendita di quad, moto, mini moto. Approfitta degli incentivi fiscali del 50%, validi fino al 31 novembre. Vienici a trovare a Cerda via Roma 75 o contattaci al numero 091 89 91 350.